salve youtubers e benvenuti in questo nuovo video da parte del team di portal games oggi abbiamo la possibilità di provare in anteprima questo gioco realizzato da fragescopio squillante che saluta e ringrazio io sono antonello alias hans e con me io sono lak allora iniziamo con la intro del videogioco ovviamente per facilitare le cose abbiamo inserito tra le opzioni sottotitoli italiano ricordiamo che il gioco è interamente doppiato in inglese inizia con una frase di baudelaire e poi betriche iorio che è la scrittrice della storia per questa storia il libro si può trovare anche come book the sound of science perfetto iniziamo con l'avventura ci troviamo nel manicomio questa ragazza la nostra protagonista dice aiutami ti prego non riesco non riesco a uscire è un labirinto io corro corro ma non trovo la maledissima via d'uscita infatti fin da subito possiamo capire che la protagonista è una donna dalla voce il suo nome è Katherine Watson di anni 35 l'intuso all'interno di questo manicomio criminale soltanto all'età di dieci anni nel 1940 vediamo le varie stanze iniziamo con mangiare un topo perché infatti nel sottotitolo precedente lei ha detto che è abituato ormai a cibarsi non solo del suo sangue ma appunto quello dei topi poi scopriremo andando più avanti con l'avventura il perché essere rinchiuso all'interno di questo manicomio si apre questa porta una volta hanno giusto un po' poi mi sono potuto fare una gita con le maestre ma ero malato e sono restata a lecce nel dormitolo la scuola è rimasta chiusa e hanno tolto la corrente ma so che le maestre non si sono dimenticate niente possiamo vedere in questo gioco si possono anche interagire con gli oggetti per esempio spostare dotati di elementi fisici ovviamente la protagonista può muoversi in tutte le direzioni e può anche saltare per vedere ok proseguiamo cliccare troviamo nella hall penso delle una stanza non questo no no e c'è sono tutti questi tizi con la stessa faccia devo dire che analizzate bene perché se noi ci spostiamo seguono il protagonista seguono il protagonista ecco anche immagini di un cadavere e quindi sanno la nostra presenza all'interno del videogioco è fatto bene su questo aspetto troppo buio non si vede a destra mi pare che devi andare a destra che esce ecco una bambina è sempre una bambina e andare in questa stanza e qui c'è tutti i fascicoli dei pazienti pazienti e c'è anche il nostro ovviamente che andiamo a legge infatti catherine watson di 35 anni addirittura colpevole del plurioomicidio dei genitori solo all'età di 15 anni varie tentative di suicidio aggressione contro altri ospiti della struttura ora tra poco ci sarà un frammento appunto un flashback che farà vedere quando la bambina è stata accompagnata all'interno di questo manicomio ha solo 10 anni invatti non sono io quella descritta questo perché perché la protagonista è fermamente convinta che i genitori non sono morti per causa sua ma bensì sono fuori città ecco il flashback è una bella giornata la prima volta che andrei nella scuola i miei genitori erano già partiti mi avevano accompagnato dei signori molto autoritari probabilmente parenti che hanno fatto la legge per tutto il gioco verremo guidati appunto da queste sue alterazioni infantili che diciamo in qualche modo spiegherà cosa è successo realmente sui genitori il gioco come possiamo anche ben notare è disposto di autosalvataggio possiamo trovare questo è il poliziotto evidentemente il poliziotto che l'ha accompagnata alla ragazzina infatti ora lei sta raccontando si ricorda del corridoio lungo ecco il corridoio dove possiamo trovare pazienti i genitori e infermieri il dottore qua abbiamo un'opera tente mi abbia in mente perché lo vedremo fra poco questo posto è rimasto per molto molto tempo alla mia casa eh sì perché lei fu rinchiusa qua dentro per tanti anni addirittura venti un po' marcia la camera fatiscente con insetti questo posto è la sua maestra o professoressa non si so credo maestra l'abbiamo pure dopo si sta rimproverando la ragazza perché si è appena raffiata tutte le braccia addirittura la rimprovera quindi la metto in punizioni niente parco i pasti di consumarli in camera e addirittura caro lacchio la chiama schifosa bambina quindi un po' stronza si un po' stronzetta la nostra maestra siamo verso la parte finale dove eravamo prima in batticcella la perdita d'arca sopra come possiamo ben notare in lontananza una specie di figura in penombra si non so che cosa raffigura poi successivamente nel gioco infatti la si può trovare qua anche qua poi sparisce però va bene possiamo andare a finire diciamo questa demo una volta aperta questa porta con questa luce bianca è una volta aperta possiamo vedere che viene descritta la maestra che frustava diciamo la nostra protagonista addirittura la torturava infatti la spicchiava era legata al letto quindi fuori ricordo di essermi trovata pulita le ferite erano coperte dalle garze erano coperte tutto a caso volevo bene alla maestra avevano così tante attenzioni per me ma diciamo attenzioni dipende e quindi poi avviene di nuovo la nostra protagonista che è di fronte a uno specchio quindi e allora saremo e ringraziamo ovviamente ancora una volta per gli scopri squillante per avercela data in anteprima diciamo perché questa demo dovrà uscire tra due settimane mi pare mentre per la data finale di rilascio è ancora tutto da rivedere non so ancora e ringraziamo ancora ovviamente tutto il team di GoManga Interactive e la demo finisce qui e vi lasciamo con questa bellissima canzone che è proprio The Sound of Silence ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti